Ciao a tutti, io sono Laura e benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Oggi abbiamo della Giochi Preziosi Very Bella 100% Airy, quindi Very Bella acconciature. Allora, come vedete si devono mettere i capelli, perché ovviamente acconciature, però mi serve una cavia perché io non voglio rovinare i capelli, cioè io ci tengo. E ho invitato una persona che però non lo sa, cioè io ho detto di venire a fare un video, ma in realtà non voglio rovinarmi i capelli, però se va male fatti i suoi. È lei che è venuta, se va bene me lo faccio anch'io. E' arrivata la cavia. Sì, vieni, entra, entra. Posso entrare? Sì. Eccomi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ti vieni tanto bene, lo sai? Sì. Cosa facciamo oggi? Very Bella 100% Airy di Giochi Preziosi. Beh, 5 anni in su. Su quanto li hai? Ok. Sicura? Non è 5? No. Sei? No. Ti caccio? Allora, istruzioni. Perché ci serve? Dai, guarda la scelta. Molto facile da mandare. Questo va da sopra, fine. Dove? Quello va lì. Ok, questi magari servono. Uno. Unire i cuori. E due. Voglio vedere un attimo. Questo si mette qui. No, almeno. Stavien fatta, primo passo superato. Aspetta, aspetta, aspetta. Non va. Quasi ho messo dentro le perline. Mettile. Per piacere. Mettile, Rosy. Capia. Cosa? Eh, Rosy, ti voglio bene. Vediamo, mettiamole. Ci mettono con le forcine? Ok. Come si mettono? Non lo so, Rosy. Cosa? Carosi. Carosi? Sì, è un nuovo nickname. Ok. Aiutami a metterle, dai, che tu sei più brava. Da sopra mi sa che si mettono, eh. Poi io devo guardare le stesse. Forse ho capito. Guarda, si infilano di così. Ah! Eh, hai capito? No, guarda, di così si infilano. Oh, vedi? Voglio farlo io, allora. Aspetta, mettiamole tutte arancioni, che se no tu metti 20.000 colori. Prima quelli arancioni voglio mettere. Ma a me io ti colloco. Andiamo, tu metti tutti quei colori che vuoi. Adesso tocca a me. Ma la smetti? No. Non la smetterò mai, mai, mai. Ok, ora mi servono gli elastici. Beh, io non mi faccio comandare. Per piacere. A vero. Guarda che carini. Hai degli elastici negli occhi. Nelle isole. Non conosci manco le canzoni di seconda tecnica. La mia canzone preferita è uno. Alex Witt. Esatto. Che non canta l'isola meglio. Non mi piace. Così sì, dovrò però metterlo nel tuo aglio. No. Così, guarda. Lo sai, è vero che sì. Così. Così. Ah? Guarda che lo devi arrotolare. Ah, last. Elastico per appoggiarlo? No, elastico per arrotolarlo. Ah, così? Mmh. Ah, allora tutto a piacere. Perché prima non aveva senso. Ok. Baciami e portami a ballarmi. Ok. Ora provo a metterle sulle tue ciocche? No. Sulle tue. Perché sono le mie? Perché le hai fatte tu. Ok. Proviamo. Allora, dobbiamo mettere, ho visto bene sulle istruzioni, questa qua dentro. Così si è scura? Sì. Ok. Adesso dobbiamo prendere una ciocca da rosy, non troppo sottile. Sì, è diventata bellissima. Sì, che si voleva. No, riesce. Sì, che ci riesce. Dai. Dai, super parrucchiera! E cosa devo fare adesso? Non devi tipo arrotolarla? Qui? Così? E la tiri giù? Ah, sì. E poi devo andare così? Eh, e devi rilasciare. Le vai rilasciare? No, non devi rilasciare. La tiri giù deve passare attraverso, se non sbagli. Te lasciti. Ah, ok. Mello sopra. Tira male? No, no. Sì. No, mi sa che... Ah, così? Sopra? Allora, levali da sopra, tutta una volta. Vai. Credo, è una montata. Prova, dai. Prova. Non dà. Come no. Ah. Il primo è andato. Andiamo col secondo. Il secondo non si stacca. Ah, ah, ah. È stato malissimo. Io direi esperimento... Fallito. Fallito. Ci riproveremo nel prossimo video. Quando... Perché non l'abbiamo provato prima? Mmm... Non lo so. Allora, mi raccomando, commentate qua sotto. E se l'avete già fatto, spiegateci come si fa. Mmm... Mettete un mi piace per aiutarci. Esatto. E nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.